Salve a tutti, sono Clerice Leste, ringrazio Bologna e Lettera e gli organizzatori di questo festival per avermi invitata e vi leggerò qualche mio breve testo inedito. Hai ragione quando dici che passo il fuoco nelle mani, che rischio di bruciare quel che trovo, ma cosa posso farci se io prendo fuoco intera, se almeno nel dolore riesco a essere una qualche forma di luce. Non fate cadere niente stasera, lasciate intatti vetri che le schegge hanno già preso tutte le direzioni della carne, altri corpi che ci abitano, altri lenzuoli nei quali ci arrotoliamo la sera, per sentirci sicuri, dormiamo sul fianco, diamo la schiena. Ho dei buchi in testa da anni, ogni giorno scavo con le unghie, recuperare poco meno di un millimetro di carne, non so perché lo faccio, che sia per far passare la luce, arrivare al centro di me, estrarre tutto il buio. Grazie mille.